Dietro uno schermo ho visto morire molta gente Ma il video di Parigi con quel povero agente Mi ha fatto un'impressione Il suono degli spari si pianta nelle orecchie Lui non c'entrava niente Bastano 40 secondi a creare panico Due travestiti di nero con i Kalashnikov Lui ferito disteso sul marciapiede fuori dalla sede di Charlie Hebdo Tu ci volevi uccidere gridando in tono macabro Lui alza le mani dice no serboss Ultime parole perché poi gli sono sopra con il dito sul grilletto Lui è lì e boom Dietro uno schermo ho visto morire molta gente Ma il video di Parigi con quel povero agente Non è servito a niente Se non a scatenare nel vecchio continente la paura generale Dopo che ho visto quel video mi son cacato sotto Stava su tutti i canali dall'1 al 48 Stava su tutti i giornali in forma di foto E sulle bacche che Facebook faceva il botto Se così facendo abbiamo fatto il loro gioco Il loro scopo Benzina sul fuoco Se il rischio ora è cadere nel precipizio Po 2015 è solo l'inizio